È arrivato il momento di abolire i voti scolastici? Gli studenti in Italia non reggono più la pressione del voto Quel numero dall'1 al 10 che determina se sei le cose oppure no E se sarai promosso oppure bocciato Con i limiti che tutti conosciamo Una banalità per chiunque abbia frequentato la scuola Ma non per gli studenti del 2023 Che addirittura sarebbero accolti da crisi di ansia, di panico Dall'incapacità di gestire una valutazione E che in alcuni casi scioperano e chiedono alle scuole di abolire i voti numerici O di abolire i voti in generale E il problema è che alcune scuole realmente tolgono i voti E fanno sperimentazioni in questo senso Come farà una persona che non è in grado di sopportare la pressione di un voto A difendere un cliente di fronte ad una corte se sarà un avvocato O a firmare il progetto di un ponte se sarà un ingegnere Ma banalmente mi viene da dire come farà a firmare un contratto Per ottenere un mutuo da una banca Se non è in grado di reggere la pressione per un voto scolastico Siete d'accordo? Cercatemi su YouTube e iscrivetevi al mio canale